Love is in the air, trama puntate, mercoledì 22 settembre 2021. Ovviamente Eda si dimostra piuttosto evasiva e distante nell'interagire con Seaman, ma quest'ultimo cerca di cogliere tutte le occasioni possibili per parlarle e avvicinarsi. Alla fine la Ildis si trova costretta a interagire con Seaman e si rende conto che il principe è una persona molto gentile e disponibile. Successivamente quando è presente anche Serkan, Seaman svela di essere interessato a Eda e di essere molto attratto da lei. Infatti il principe mostra a tutti i presenti una foto di sua moglie, purtroppo defunta, che era identica a Eda. Seaman così dice di essere rimasto profondamente colpito dall'aspetto della Ildis. Serkan assiste a questa scena e resta sconvolto e dice a Eda che per lui questo è troppo da sopportare. Allo stesso tempo Bolat fa i conti anche con la prolungata assenza di Al Tekin che dopo la sua partenza ha completamente smesso di dare notizie di sé alla sua famiglia. Intanto Semika fa sapere a Eda che deve rompere direttamente con Serkan e che non è sufficiente non parlargli più in azienda. È necessario che gli dica che non vuole avere più niente a che fare con lui e che per loro non c'è un futuro insieme. Ancora una volta la Ildis resiste al ricatto. Grazie a tutti.